Prego Francesca, che piatto ci presenti? Io vi ho preparato un turbante di spigola con la sua pelle croccante su una caponata di verdure. Ok, buon dare. Grazie. Signora Camilla, prego. Sì, io ho preparato un piatto tipico della mia regione, la mia terra, l'Abruzzo. Pallotte, caciovo. Aspe, aspe, ci sta anche pizze e fuglie, sempre dell'Abruzzo, eh? Eh, signora Camilla, solamente un piatto. E io una alla volta te lo sto portando. E siccome vi vedo sciupati, pependone e ova. E stiamo solo all'antipasto. Chitarrina con le polpettine, sagne e fasciule. E per sgrassà, lo brudette. E aspe, aspe, che facete senza dolcetti? Sopreparate le mostacciole, le sisi delle moliche, le ferratelle, le poconocchi, le turcinelle, la pizza doce, le caviciunette. E pure le cille pieni.